e ciao a you e ben ritrovati sul canale di neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis signori ma che domenica di sport è stata quella di ieri a parte il ritiro di valentino rossi che qui ci sarebbe da fare un video di 30 minuti solo a parlare di valentino rossi ma noi parliamo sempre del napoli o dell'italia parliamo di calcio questo è un canale di calcio portavo i video della formula 1 e della moto gp ma non erano tanto seguiti e quindi ho deciso di stopparli detto questo un grazie a valentino rossi perché in tutti questi anni di moto mondiali mi ha regalato emozioni che io penso né bagnaia né quartararo né marquez mi faranno mai provare il sorpasso al cavatappi il sorpasso all'ultima curva su lorenzo a barcellona sono cose che non te le puoi dimenticare e nessuno penso se le scordi e c'è anche luis emilton ragazzi che face partendo ultimo nella sprint qualifiant e arrivando quinto e poi partendo decimo quindi 25 sorpassi 24 perché da solo non si è sorpassato è riuscito a vincere in brasile ed ha riaperto il mondiale di formula 1 che domenica ragazzi che domenica quindi anche senza il napoli mi hanno fatto schizzare felicità da tutti i pori detto questo ringrazio i ragazzi del gruppo telegram perché mi hanno fornito i goal e gli assist che hanno fatto i giocatori del napoli con le nazionali tenete presente che l'italia gioca questa sera è fondamentale vincere per l'italia quindi è un resoconto fino alle partite di ieri ragazzi quindi non ci saranno naturalmente le partite di stasera anche se mi auguro che lorenzo insigne possa portare l'italia a qualificarsi direttamente in catar detto questo partiamo con la classifica dei giocatori del napoli lo botca un assist emma elmas ragazzi due gole due assist di lorenzo un gol lorenzo insigne un assist zienischi un assist angissa un gol osimen un gol culibali un assist e racmani un gol per un totale di sei assist e sei gol come sempre ringrazio lo ribadisco i ragazzi del gruppo telegram e se non siete ancora iscritti al gruppo telegram andate a cercare qui nelle descrizioni c'è il gruppo telegram mi fa piacere possiate entrare nel gruppo telegram perché si parla di calcio si parla di tutto non solo del napoli ma anche di altre squadre quindi anche tifosi delle altre squadre allora detto questo ho visto che non tutti quelli che guardano i miei video sono iscritti al canale quindi quasi l'80 per cento che visualizza i miei video non è iscritto al canale non vi costa niente e primete il tasto iscriviti ed iscrivetevi al canale di neapolis 1926 è gratis lo sapete allora detto questo lo botca che ha fornito un assist ragazzi lo botca che finalmente sta trovando minutaggi con la sua nazionale questo è un buon presentimento per luciano spalletti perché poi sabato affrontiamo domenica domenica scusatemi domenica c'è inter napoli l'inter che sembra avere le pezze a culo in difesa ma a me non mi interessa perché non voglio guardare l'inter non voglio guardare altre squadre voglio guardare in casa napoli demme risultato positivo l'abbiamo già detto per ora non ci sono altri positivi in casa del napoli ogni giorno guardo gli annunci su twitter del napoli perché non si sa mai e quindi per ora ad oggi alle ore 3 di pomeriggio alle ore 15 di pomeriggio non c'è nessun altro positivo in casa napoli quindi per ora perdiamo solo diego demme detto questo elmas ragazzi elmas due gol e due assist benissimo va benissimo zenischi ha fornito addirittura anche lui un assist sarà sulla sulla strada del dare il 100% zenischi non lo so però elmas a questo punto si potrebbe prendere una maglia da titolare contro l'inter poi o dobbiamo vedere da come arrivano dai viaggi con le nazionali perché può darsi che stasera facendo corna è insigne si faccia male esca al ventesimo per infortunio cioè le nazionali sono sempre un'incognita lo sappiamo io ragazzi le nazionali non le sopporto proprio per questo motivo perché prima cosa va interrompere un campionato di serie a che penso negli ultimi dieci anni questo sia il campionato più bello ma non perché non c'è la juventus perché ci sono altre squadre che si stanno giocando a viso aperto inter milan il napoli lo scudetto sono tre squadre no mortacci tua quindi è un campionato veramente bello e fermarlo per queste cazzo di nazionale questi cazzo di mondiali mirò del culo detto questo osimen se non sbaglio ha segnato su calcio di rigore va bene così va bene per le statistiche per il giocatore perché deve trovare lucidità anche lui ragazzi e lo sappiamo com'è nervoso ultimamente osimen e quindi è buon per lui che abbia trovato il gol oh anghissà anghissà signori me ha segnato cioè ha fatto anche un bel gol ragazzi se non sbaglio di destra l'ha fatto all'angolino basso su una ribattuta da un calcio d'angolo l'ha fatto veramente veramente tanta roba questo gol e quindi buon per lui e buon per il napoli perché poi lo sappiamo che anghissà è fondamentale nel gioco del napoli come è fondamentale culibali e racmani che tutte e due uno ha fatto un gol l'altro ha fatto assist per noi va benissimo ragazzi va benissimo perché la difesa titolare sarà proprio questa culibali racmani anche contro l'inter l'inter dovrebbe aver perso i due difensori centrali non vorrei essere proprio convinto ma bastioni e bastioni e devrai dovrebbero essere infortunati uno è uscito con la nazionale infortunato devrai se non sbaglio però però c'è sempre come detto l'incognita delle nazionali queste nazionali che no io non le tollero non le tollero perché se metti caso stasera si fa male in signe con chi vado a giocare si vabbè c'ho iunes va bene tutto però iunes un asso aglio iunes marò iunes sto francoforte figurati o adam un as però ragazzi quando giocano le nazionali un po di fifa io ce l'ho addosso detto questo di cosa vogliamo parlare di cosa vogliamo parlare a è stata aperta se non sbaglio la vendita ai biglietti di napoli lazio le curve sono state messe a 25 euro quelle inferiori addirittura meno e questo è un ben segnale dalla parte della società che vuole portare più gente possibile allo stadio va benissimo ho visto è stata fatta una nuova iniziativa per una tribuna se non sbaglio inferiore alle scuole calcio le scuole calcio con la tessera della scuola calcio pagheranno tre euro a partita per portare i bimbi allo stadio ed è bellissimo ragazzi perché portare i bimbi allo stadio ti dà quella carica in più secondo me perché vedi le giovani leve le giovani promesse che ti vengono a guardare e io la trovo una cosa molto interessante una scelta strategica del napoli per vendere anche biglietti nella parte inferiore allo stadio perché lo sappiamo io ci sono stato allo stadio san paolo andai a vedere napoli juventus sconfitta del napoli per 2 a 1 ora non mi ricordo l'anno non me lo dite mi ricordo solo che pogba fece un gol della madonna però è giusto vendere anche le curve sotto si vede male nella parte sotto io preparo della curva b inferiore io vedi male la partita perché se sei quasi a livello del campo e quindi vedi male se era un pochino più rialzato la tettoia sopra è la più alta vedevi bene ma in quel modo si vede male però se ci porti le scuole calcio a 3 euro e anche i genitori pagheranno 3 euro a quel che ho capito va benissimo perché devi di impiegare la parte sotto perché è brutto vedere lo stadio sopra pieno e poi vedi sotto che non c'è nessuno in quel modo vai a creare armonia fra i settori e vai a creare l'occhio alla telecamera che c'è più gente allo stadio detto questo ragazzi chiudiamo qui il video perché sennò viene troppo lungo io vi ricordo di iscrivervi al canale di neapolis 1926 e guardate quanto è bello babbo natale guardate quanto è bello babbo natale spero ci porti tanti regali quest'anno a parte Diego che ha chiesto una sorellina ma no per ora no poi più avanti si vedrà detto questo vi ricordo di iscrivervi nuovamente al canale perché l'80 per cento ve lo ripeto non è iscritto al canale quindi iscrivetevi che costa iscriviti e basta che ci vuole sempre e comunque forza napoli dal vostro neapolis 1926 ciao a you